Buongiorno a tutti Non vi creo illusioni, non ho intenzione di tornare nemmeno stavolta Ma questo canale, nei sette anni in cui è stato attivo, sei, sette anni, non mi ricordo Ha visto nascere la più importante delle storie d'amore della mia vita che è quella con i cani Ieri, 3 luglio, abbiamo perso un cagnolino Forse non tutti sapevano che avevo fatto fare una cucciolata alla mia freia che adesso è sterilizzata Per fortuna perché è un dolore del genere e non lo vogliamo più E da questa cucciolata erano nati sei piccolini Uno purtroppo non ce l'aveva fatta subito, era morto dopo pochi giorni Un altro ha trovato famiglia E quattro erano rimasti con noi Ieri Qua Utenuk ci ha lasciato Starò facendo passare una foto o due in questo momento Spero che si senta qualcosa perché senza il ventilatore non posso stare fa troppo caldo E me la tatua era molto presto, non credo che farà il video perché Sono devastato e per me è già una fatica a fare questo Ma voi li avete amati, li avete visti Ed era giusto farvi sapere per quei pochi tre gatti che sono iscritti Al mio canale Volevo augurare Rieccomi Scusate Stavo dicendo che volevo augurare Pomponte Al mio bambino Purtroppo Non ti siamo riusciti a salvare Ma Forse in fondo tu già lo sapevi che doveva andare così Il nonno ti ama E non solo il nonno Tu lo sai Sei stato un cangio di meraviglioso Non ti dimenticate di no Non vi voglio moderare i commenti Vi voglio fidare di voi Non mi fate pentire Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti